Era andata al mare con il fidanzato e il fratellino, ad un certo punto, mentre era sola a riva, un uomo di mezza età si è avvicinato a lei e, afferrandola per il braccio, l'ha trascinata in acqua e lì ha tentato di violentarla. E la ricostruzione shock di una quindicenne che domenica scorsa a Otranto, in località Baia dei Turchi, sarebbe stata salvata da un tentativo di stupro da parte di un cinquantenne, grazie al tempestivo intervento dei bagnanti, allertati dalle urla dell'adolescente. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e il presunto aggressore è stato identificato. Su di lui sembrano gravare anche dei precedenti. Sull'episodio, confluito in una denuncia, la procura adesso ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il cinquantenne, salentino come la vittima, è attualmente indagato a piede libero. L'ipotesi di reato a suo carico è di violenza sessuale aggravata. E il secondo caso di molestie sessuali, denunciato in pochi giorni nel Salento leccese. A Torre dell'Orso, una tredicenne, ha riferito di essere stata violentata da un animatore diciassettenne in servizio nel villaggio in cui la ragazzina era in vacanza insieme alla famiglia. Lui ha riferito invece di un rapporto consensiente. Anche su quest'episodio la procura è al lavoro per definire i contorni della vicenda.